E bella a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video In questo video faremo una sfida pazzesca tra Paco e Zuccherina Ma sapete chi è Zuccherina? Zuccherina è un po' in Shetland che abbiamo in maneggio E allora sigla! Zuccherina è un po' in questo video Pazzesca anniteranno anche le due mie amiche di maneggio Che sono Greta e Maddalena Adesso presentiamo i concorrenti però Paco lo conoscete, è il mio care a tre anni Ed è pezzato, possiamo chiamarlo così Ed è giocherellone e simpatico Lei è Zuccherina È un falabella giovane Che io e Maddalena stiamo addestrando, addomesticando per fare l'agility horse Avete capito bene, agility horse Volete sapere dove è nata Zuccherina? È nata qui in maneggio Poi però è andata per qualche anno a vivere da una signora Che però infine l'ha, esatto, l'ha restituita E lei si è ricongiunta si dice E la mamma è lei Come vedete sono entrambe pezzate E anche Paco lo è Dai, il viola è uno stile pazzesco Metticelo sopra La nostra sfida sarà Da una parte ci sarà Zuccherina Da un'altra Paco Però prima dobbiamo preparare Zuccherina Per prima cosa dobbiamo pulire il pony E spazzoliamo la coda E la finiera e il ciuffo E poi la strigliamo E spazzoliamo sul corpo Io gli sto facendo una treccia Vediamo se esce Faremo degli esercizi E faremo anche saltare Zuccherina e Paco E poi vedremo chi è il vincitore Vinceremo noi No, no, vinceremo noi, tranquilla Vinceremo noi, Madda Il nostro pony è molto più forte Paco è già allenato Quindi vincerà lui Vabbè, allora che vinca il migliore Esatto Sapete dove faremo la gara? Faremo la gara nel paddock in sabbia Sarà una grande sfida Praticamente faremo una gara di salti ostacoli Tra Paco e Zuccherina E chi salterà meglio vincerà Adesso prepariamo Paco Però lì teniamo il pile Poi adesso ritogliamo la coperta Questa è il pile da gara E porta anche fortuna Il giallo combina banana Prima di preparare il campo Però dobbiamo presentare i concorrenti Nomi Zuccherina Razza Calabella L'età è molto giovane Carattoli, esso ciboli e un po' pigluna Paco, tre anni Razza Cavalier King Colore pezzato E giocherellone con coloso Sarà una grande sfida E adesso andiamo a preparare il campo Faremo la gara nel paddock di là Questo sarà il campo dove faremo la sfida Com'è Zuccherina? Non è calda? No, è un po' di molto tranquillo Adesso dobbiamo scaldare i concorrenti Mettiamo gli ostacoli Adesso facciamo il riscaldamento Adesso proviamo qua Ragazzi adesso iniziamo Siamo alla sfida Siamo alla sfida Siamo alla sfida Tre a due Seconda prova Questo è alto per Paco Terza prova, ora invertiremo i due amici pelosi, io prenderò Paco e Silvia Zuccherina Paco vieni Siamo salito Un punto E alla fine ha perso Paco e faremo come penitenza una lezione di agility dog, ma questo lo vedrete nel prossimo video Quindi se vi è piaciuto questo video mettete un pollice in su ed iscrivetevi al canale, guardate altri video, ciao! 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 Ciao!